Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete seguirmi su Instagram e vi ricordo che sono attivo anche su Facebook, vi lascio il link nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. Questa è una di quelle storie dove la linea tra il possibile e l'impossibile si dissolve. Un caso davvero difficile da affrontare, non solo per la brutalità dei fatti, ma anche per le sfide emotive che porta con sé. Un'epidemia che, dalla sua parte, può trasformare rapidamente la vita di una persona innocente in un incubo a occhi aperti, un'esperienza che nessuno meriterebbe di vivere. In mezzo a tanta oscurità, forse, solo la fortuna può intervenire, portando a sviluppi inaspettati che sfidano ogni previsione. Franz Dutoit nasce il 6 luglio 1968 a Dalewal North, in Sudafrica. Figlio di un poliziotto cresce in una famiglia cristiana molto severa, trascorre un'infanzia relativamente tranquilla, ma, durante l'adolescenza, inizia a frequentare degli amici che lo trascinano completamente sulla cattiva strada. Frequentando il liceo, infatti, si avvicina alle persone sbagliate, che sicuramente non rientrano nella definizione di buone compagnie, e, grazie a loro, Franz scopre il mondo delle sostanze ad appena 13 anni. In questo periodo dà addirittura fuoco al dormitorio della scuola e attribuisce la colpa alla musica metal che ascolta. Secondo le sue parole, è stata proprio questa spingerlo ad appiccare l'incendio. L'episodio porta alla sua espulsione da scuola. I suoi genitori, preoccupati, decidono di trasferirsi a Port Elizabeth, sulla costa meridionale del Sudafrica. La situazione, però, non migliora affatto. Anzi, si aggrava. Quando si stabilisce in questa nuova città, Franz entra in contatto con il satanismo e inizia a interessarsene. Riferendomi al satanismo, intendo dire che Franz inizia ad adorare il diavolo e a considerarlo il suo dio. Ma come fa ad avvicinarsi a queste pratiche? A Port Elizabeth, il ragazzo, incontra una strega a capo di una congregazione che si diletta nelle arti oscure. Questa figura misteriosa sostiene di possedere poteri soprannaturali e di essere in grado di portare sfortuna a chiunque la contrasti. Franz rimane affascinato dalla donna e i due cominciano a frequentarsi. La strega gli insegna a utilizzare e apprezzare gli incantesimi di magia oscura e insieme conducono reti satanici durante i quali si manifestano demoni, secondo quanto afferma il ragazzo. Franz dichiara di essere stato posseduto dal diavolo almeno due volte. Ritengo importante ricordarvi che il ragazzo è veramente molto giovane, al momento ha tra i 14 e i 15 anni. Mentre Franz si fa coinvolgere sempre di più dalle persone sbagliate e si diletta con la magia nera, il suo rendimento scolastico cala a picco, infatti viene bocciato per due anni consecutivi e infine decide di abbandonare definitivamente gli studi. I suoi genitori, sempre più preoccupati, attribuiscono la colpa di questo cambiamento alla ragazza che il figlio sta frequentando. Decidono così di impedirgli di vederla, sperando così di salvarlo da quella spirale autodistruttiva. All'età di 18 anni il ragazzo decide di arruolarsi nell'esercito. Ci rimane per un paio d'anni, ma la maggior parte del tempo lo trascorre all'interno della caserma di detenzione, perché non riesce a controllare il suo atteggiamento e il suo comportamento. Dopo aver lasciato l'esercito, all'età di 20 anni, Franz trova lavoro in una miniera e incontra una ragazza. I due si sposano in fretta e mettono al mondo una bambina, ma pochi mesi dopo la sua nascita, Franz lascia la moglie, sostenendo che non lo soddisfa intimamente e decide di abbandonare anche sua figlia. Non vedrà mai più la bambina, ma credetemi, questa è stata solo una fortuna per lei. Dopo il fallimento del suo matrimonio, Franz torna a Port Elizabeth, dove, con l'aiuto dei suoi genitori, trova lavoro come fattorino per una catena di cartolerie. Tuttavia, poco tempo dopo, viene licenziato perché è sorpreso a derubare il suo datore di lavoro. Determinato a fare soldi facilmente, Franz inizia a vendere alcol illegalmente. Nel 1993 si risposa e, poco dopo, la coppia ha un figlio. Franz continua a praticare l'adorazione del diavolo, tanto che, durante la gravidanza della moglie, esegue un rituale satanico chiedendo che suo figlio nasca il 6 luglio, ovvero lo stesso giorno del suo compleanno. Sorprendentemente, la sua richiesta viene esaudita, suo figlio nasce proprio in quel giorno. Potrebbe essere una strana e inquietante coincidenza, oppure Franz potrebbe aver semplicemente mentito riguardo alla data di nascita di suo figlio. In ogni caso, Franz si convince di possedere poteri soprannaturali e va in giro a dire a chiunque sia disposto ad ascoltarlo che ha ottenuto il potere di Satana. Franz continua a fare affidamento ai suoi genitori per qualunque cosa, spesso chiedendo loro dei soldi, visto che non riesce a mantenere un lavoro per più di una settimana. È troppo pigro per impegnarsi seriamente a costruirsi una carriera e, di conseguenza, una vita stabile. Inoltre, il fatto che suo padre è un poliziotto e gioca a suo favore e ogni volta che viene arrestato, gli paga l'occauzione permettendogli di evitare le conseguenze delle sue azioni. In questo modo, Franz non ha mai dovuto crescere o assumersi alcuna responsabilità. All'età di 25 anni, Franz incontra il 19enne Theuns Kruger. Nato nel 1975 e cresciuto a Port Elizabeth, in Sudafrica, Theuns ha avuto sicuramente un'infanzia difficile. Suo padre biologico è un criminale ed è dipendente dalle sostanze. Appena la moglie rimane incinta, la lascia e se ne va di casa. Poco dopo finisce in prigione e, di conseguenza, il ragazzo non lo conoscerà mai. Durante la gravidanza, la madre di Theuns si sposa con un altro uomo, ma poco dopo la nascita del bambino, la coppia divorzia. Quando Theuns ha appena nove mesi, la madre si risposa per la terza volta. Il terzo marito si rivela essere un vero incubo. Picchia Theuns fino a riempirlo di lividi. Solo da adulto, il ragazzo, rivelerà che durante l'infanzia il suo patrigno lo aggrediva anche intimamente. C'era a dire però che in realtà il suo patrigno negherà con veemenza questa cosa, affermando che farà causa a chiunque lo sostenga. Quindi non è chiaro come siano andate esattamente le cose. Questa situazione tormenta Theuns per tutta l'infanzia e quando inizia a frequentare la scuola le cose peggiorano ulteriormente. Diventa vittima di bullismo a causa di un terzo capezzolo che poi si farà rimuovere chirurgicamente da più grande. Theuns vive il periodo scolastico come un vero e proprio incubo. I suoi compagni lo deridono costantemente, chiamandolo tre tette. Il ragazzo quindi comincia a covare una profonda rabbia dentro di sé e si isola sempre di più. A causa dell'infanzia estremamente difficile che ha vissuto, molte volte ha pensato di togliersi la vita e ha cercato di scappare di casa in numerose occasioni. All'età di 15 anni abbandona la scuola e inizia a far uso di sostanze e alcol. Alla fine anche lui decide di arruolarsi nell'esercito. Non ho trovato informazioni esatte su quando si arruoli, ma è noto che lascerà l'esercito all'età di 18 anni. Theuns è un ragazzo profondamente arrabbiato ed estremamente volubile. Le sue difficoltà a relazionarsi con le donne non fanno che alimentare la sua rabbia, poiché nessuna sembra voler stare con lui in modo consenziente. Questa frustrazione lo accompagna fino a quando inizia una relazione molto intensa e fisica con una strega satanica. Di nuovo. Insieme iniziano a eseguire rituali satanici e ad adorare il diavolo, ma la relazione finisce bruscamente poco dopo, quando la donna lo lascia. Quando ha 19 anni, nel giugno del 1994, Theuns incontra France. Tra i due scatta subito una forte intesa, perché appena iniziano a parlare scoprono di essere molto molto simili. Entrambi hanno servito nell'esercito, hanno abbandonato la scuola in giovane età, hanno avuto delle relazioni con delle streghe sataniche e adorano il diavolo. Mentre parlano delle loro esperienze e della loro passione per il satanismo, France racconta a Theuns di essere stato posseduto dal diavolo per due volte. Theuns ovviamente ci crede e rimane molto colpito. Si sente addirittura in soggezione, convincendosi che France possieda davvero il potere del diavolo. In questo modo, France si assicura una posizione dominante rispetto a Theuns, grazie anche alla differenza d'età. France ha 26 anni, mentre Theuns ne ha ancora 19. France, che è molto manipolatore, prende il ragazzo sotto la sua ala protettrice. Theuns, solo e traumatizzato dalla sua infanzia difficile, inizia a guardare il suo nuovo amico con molta ammirazione, iniziando a vederlo come un fratello maggiore o addirittura come una sorta di figura paterna. Ben presto Theuns inizierà a sentirsi obbligato a fare tutto ciò che France gli chiede. I due iniziano a fare quelle che chiamano gite di mezzanotte al cimitero, dove discutono del potere dei demoni. France sostiene che, poiché posseduto dal demonio fin dall'età di 15 anni, ha acquisito il potere di spostare gli oggetti con la mente, anche se non mostra mai a Theuns queste abilità. Ma non è finita qui, perché afferma di possedere anche un altro potere, quello di rendersi irresistibilmente attraente per le donne. Inoltre afferma che questo demone che lo possiede gli dà un insaziabile appetito sessuale. Dice di aver bisogno di avere rapporti intimi più volte al giorno, al punto che, se fosse per lui, non farebbe nessun'altra attività. Pensa di meritarselo e, poiché è così potente, si domanda «Perché non posso avere rapporti intimi ogni volta che mi va?» D'altronde, sono un essere onnipotente. Theuns ovviamente concorda con lui, dicendogli che sì, si merita di soddisfare i suoi desideri ogni volta che lo desidera. Anche se, le donne si oppongono. Mi piacerebbe dirvi che queste sono solo chiacchiere di due esaltati, ma purtroppo, solo pochi mesi dopo il loro incontro, iniziano a compiere una serie di aggressioni intime assolutamente orribili. Nel 1994, Franz assala una donna per la prima volta da solo. Theuns non è presente. È sera, una studentessa di 20 anni è seduta nella sua macchina, davanti a una pizzeria di Port Elizabeth. Franz si avvicina all'auto con una pistola, costringendo la giovane a farlo salire. La obbliga a guidare fino a raggiungere una zona isolata e, una volta fermati, la assale intimamente. Dopo l'aggressione, la ragazza è in preda all'isteria, ma a questo punto, Franz assume un comportamento insolito. Invece di scappare, la porta in un bar, le offre la cena e le regala una rosa. Successivamente, la porta di nuovo in una zona appartata e la aggredisce un'altra volta, obbligandola a dirgli che lo ama durante il suo assalto. Quando ha finito, riporta la ragazza in città e la saluta con la manina, dicendole che è una persona fantastica e che spera di potersi far perdonare un giorno. Poi se ne va, a bordo della sua macchina. Franz è assolutamente convinto di essere una brava persona, di non fare nulla di male, perché crede di essere irresistibile per le donne. E quindi pensa che, in fondo, a loro non dispiace essere aggredite intimamente da lui. Dopo questi fatti assurdi, la giovane studentessa si rivolge alla polizia, nonostante Franz le avesse detto di non farlo. Viene arrestato, ma viene rilasciato poco tempo dopo perché non ci sono prove mediche che confermino che la ragazza ha subito una violenza intima. La situazione si riduce quindi alla sua parola contro quella di Franz. Passano alcuni mesi, arriviamo al 4 dicembre 1994. Franz e Theuns decidono di compiere un'aggressione intima insieme. Si imbattono in una donna di 21 anni, incinta di tre mesi, che sta camminando da sola in una zona isolata della città. Franz le si avvicina, le punta una pistola contro lo stomaco e la conduce in un luogo appartato, nascosto tra i cespugli. Theuns è il primo a usarle violenza, mentre Franz la obbliga a procurargli piacere con la bocca. Quando la donna però dà segni di soffocamento, Franz si infuria, così decide di fare violenza su di lei, anche lui, come Theuns. Durante tutta l'aggressione, la vittima supplica sia Franz che Theuns di fermarsi, spiegando che è incinta. È spaventata e dato che loro sono molto duri con lei, teme che facciano del male al suo bambino. Quando l'aggressione finalmente termina, i due uomini si mettono a discutere se ucciderla o meno e alla fine decidono di lasciarla libera. Ovviamente anche questa volta la vittima si reca immediatamente alla polizia. Sia Franz che Theuns vengono arrestati e interrogati a proposito di questa aggressione, ma poi vengono rilasciati in attesa di un'ulteriore udienza fissata per il 5 gennaio. Purtroppo, prima che questa comparizione in tribunale abbia luogo, Franz e Theuns commetteranno un'altra violenza intima, ancor più orribile e sadica, così tanto da essere ricordata come una delle più terribili e violente aggressioni intime del Sudafrica. La vittima di questo tremendo assalto si chiama Alison Botha. Alison ha 27 anni, è nata il 27 settembre 1967, che è trascorso la maggior parte della sua infanzia con sua madre e suo fratello, dopo che i suoi genitori hanno divorziato quando aveva 10 anni. La separazione dei suoi genitori non influisce negativamente su di lei, che aveva un'infanzia felice e spensierata. La madre cresce i suoi figli nel migliore dei modi, dicendo sempre a entrambi quanto siano speciali. Li educa nel rispetto e non ponendo pressione su di loro riguardo al futuro. Non importa se decidono di andare all'università o se scelgano di cercare subito un lavoro. Tutto ciò che le interessa è che siano felici e che si comportino come delle brave persone. Grazie a questo sostegno Alison sviluppa una forte autostima. È sicura di sé, ma non è mai arrogante. È una ragazza amichevole, estroversa e sempre disposta ad aiutare gli altri. A scuola è molto amata, tanto da essere eletta capoclasse. Dopo aver concluso le scuole superiori frequenta per un anno il Port Elizabeth Technicon e successivamente inizia a lavorare. Nel 1990 si reca a Londra e trascorre i successivi quattro anni viaggiando e lavorando all'estero. Al termine di questo periodo torna a Port Elizabeth dove si stabilisce definitivamente e trova lavoro come agente assicurativa. La vita che sta conducendo la rende felice. Ha un lavoro che ama, esce spesso è una vita sociale soddisfacente. Tuttavia, è proprio in questo momento che ha la sfortuna di incontrare sul suo cammino Franz e Theuns. È il 18 dicembre 1994. Alison trascorre la giornata in spiaggia con i suoi amici, chiudendosi il sole e la compagnia. Più tardi, tutto il gruppo si trasferisce a casa di Alison per la serata. Ordinano una pizza e continuano a divertirsi fino a luna di notte, quando gli amici della ragazza iniziano a salutare e a tornare alle proprie case. Una sua amica però non ha la macchina ed è quindi obbligata a tornare a casa a piedi. Alison, però preoccupata per la sua sicurezza, si offre di accompagnarla con la sua auto. Dopo aver lasciato l'amica, Alison torna a casa ma trova il suo parcheggio occupato. È un po' seccata ma non può certo mettersi a cercare il proprietario del veicolo a quell'ora di notte, quindi si dirige verso una strada vicina, un po' buia e poco trafficata, dove trova un parcheggio alternativo. Posteggia la macchina, spegne il motore e quando i fari dell'auto si spengono, improvvisamente qualcuno apre la portiera del conducente. È un uomo che stringe in mano un coltello. La paura la paralizza ma l'uomo la minaccia dicendole spostati o ti ucciderò. Quel uomo è proprio Franz Dutoit. Alison, ovviamente, obbedisce subito. È sconvolta dalla presenza del coltello ma Franz che nel frattempo è salito in macchina continua a dire ad Alison di non preoccuparsi, la rassicura dicendole che non le farà del male e che ha solo bisogno della sua macchina per circa un'ora perché deve fare delle commissioni. Alison si aggrappa disperatamente alla speranza che non stia mentendo ma si rende conto che potrebbe essere vana quindi sta anche pensando di saltare fuori dall'auto. Potrebbe aprire la portiera e saltare giù dal veicolo in movimento ma purtroppo ha paura delle conseguenze. Franz sta guidando abbastanza velocemente e in cuor suo continua a sperare che non voglia farle del male così rimane seduta sul sedile del passeggero paralizzata dalla paura. Franz chiede alla ragazza il suo nome e Alison mente dicendo di chiamarsi Susan. Alison a questo punto rigira la domanda a Franz e anche lui mente affermando di chiamarsi Clinton. Mentre guida Franz continua a conversare con Alison e le chiede se abita da sola. Lei si affretta a rispondere dicendogli che no non abita da sola ma con il suo fidanzato che in realtà la sta aspettando a casa. Questo non sembra affatto turbare Franz anche se sicuramente Alison ha fatto bene a mentirgli. La sua risposta implica che qualcuno potrebbe notare la sua assenza e denunciare la sua scomparsa il che potrebbe mettere pressione su Franz. Con la speranza di averlo intimidito Alison gli chiede di lasciarla andare dicendo che può tenersi la macchina se vuole. Ma Franz le risponde che lui in realtà vuole un po' di compagnia e poi aggiunge che deve cercare un amico e insiste perché Alison rimanga con lui. Dopo aver guidato ancora un po' si fermano fuori da una discoteca. La strada è affollata di persone che camminano. Alison le guarda disperatamente spera che qualcuno la veda capisca la situazione e le offra aiuto ma purtroppo nessuno si accorge di lei. Ovviamente l'amico che Franz vuole andare a prendere è Theons. Quest'ultimo si dirige verso la macchina e si siede sul sedile posteriore. Alison riesce a intravederlo dallo specchietto retrovisore e quello che vede le fa venire un brivido lungo la schiena perché Theons ha uno sguardo freddo e perso nel vuoto. È in questo momento che la ragazza comprende che non sarebbe finita bene per lei. Franz riprende a guidare dirigendosi verso la periferia di Porta Elizabeth. prosegue finché non arriva in una zona isolata dove non si vedono più passare persone o macchine. Lascia poi la strada principale per imboccare una stradina sterrata e sabbiosa e si dirige verso una piccola zona appartata. Franz ferma la macchina e Theons scende per fumare una sigaretta lasciando Alison da sola con Franz. Il silenzio aprimente e Alison con il cuore in gola si gira verso Franz e gli chiede e ora che succede? L'uomo ribatte beh pensavo avessi capito che siamo qui per fare sé Alison a questo punto è davvero paralizzata dalla paura pensa disperatamente a come può venire fuori da questa situazione Franz se ne accorge e le chiede hai intenzione di ribellarti? Alison valuta in realtà le sue opzioni ma si rende conto di essere in trappola non può combattere o ribellarsi Franz ha un coltello e per quanto ne sa potrebbero avere altre armi quindi Alison gli dice che no non ha intenzione di ribellarsi Franz le ordina di togliersi i vestiti poi le afferra la testa e la spinge verso il suo inguine minacciandola se mi mordi ti uccido Alison prova a porre resistenza ma l'uomo la obbliga a dargli piacere con la bocca e proprio come una delle sue vittime precedenti la ragazza rischia di soffocare poi è Franz a darle piacere con la bocca tenendola ferma mentre la deride con frasi crudeli come il tuo ragazzo questo te lo fa oppure ti stai divertendo scommetto di sì dopodiché Franz fa violenza su Alison sul sedile posteriore della macchina mentre Theuns fuori dall'auto osserva la scena attraverso il finestrino per tutto questo tempo Alison prova a prendere le distanze da ciò che sta succedendo e continua a ripetersi mentalmente Alison sta facendo questo al tuo corpo ma non a te non può toccare la tua mente dopo aver finito Franz esce dall'auto e come se niente fosse chiede a Theuns vuoi avere un rapporto con questa adorabile signora? Franz anche in questa situazione orribile è convinto di essere un dono di dio alle donne pensa di essere così affascinante e carismatico da farle cadere ai suoi piedi e trovo che questo sia assurdo visto che ha appena finito di fare violenza su una donna in ogni caso Theuns entra in macchina e non esita a prendere il suo posto abusando di Alison in modo brutale quando ha finito scende dall'auto e i due uomini iniziano a discutere parlano di cosa fare con Alison si chiedono se dovrebbero ucciderla o no vi ricordo che Franz per precauzione aveva detto ad Alison di chiamarsi Clinton ma mentre discutono senza rendersene conto iniziano a usare i loro nomi reali quindi Alison li sente e prende nota mentalmente dei loro nomi deve assolutamente ricordarli mentre parlano i due ricordano le loro precedenti aggressioni le vittime erano sempre andate tutte alla polizia portando al loro arresto giungono quindi alla conclusione di non avere altra scelta devono uccidere Alison Franz la trascina fuori dalla macchina obbligandola a stendersi a terra poi si mette sopra di lei e inizia a strangolarla a mani nude Alison prova a reagire riesce a sussurrare per favore non uccidermi ma la voce è flebile perché Franz non molla la presa la ragazza a questo punto perde il controllo delle sue funzioni corporee e svuota l'intestino Franz le sta stringendo così forte la gola da schiacciarle la trachea e Alison non riesce più a respirare e perde i sensi non soddisfatto Franz estrae il suo coltello e inizia a pugnalarla ripetutamente allo stomaco e alle parti intime per un totale di 35 volte Franz e Theus si rendono conto che Alison è ancora viva allora Franz afferra di nuovo il coltello e le taglia la gola 16 volte da un orecchio all'altro tuttavia in quel momento non si rende conto che mentre le sta tagliando la gola il coltello scivola anche sulla trachea di Alison Franz gliela aveva schiacciata e la donna non poteva respirare ma quest'ultimo taglio ha creato un buco nella sua trachea e questo buco permette ad Alison di respirare di nuovo Franz non lo sa ma in questo modo le ha dato una possibilità di sopravvivere Alison riacquista coscienza mentre Franz le sta ancora tagliando la gola la sua vista è annebbiata e non riesce a capire cosa stia succedendo percepisce solo che c'è qualcosa che si muove avanti e indietro sul suo collo quando Franz smette di infliggerle quei tagli sulla gola i due uomini riprendono a discutere chiedendosi se Alison a questo punto sia davvero morta concludono che è impossibile che sopravviva però Alison in quel momento non solo è viva ma è anche cosciente sentendoli parlare capisce che la sua unica speranza è fingersi morta rimanere lì a terra immobile cercando di non muovere un solo muscolo alla fine Franz e Theuns concludono che anche se per miracolo fosse ancora viva con quelle ferite morirà presto perciò decidono di lasciarla lì e andarsene salgono sull'auto di Alison gettano tutti i suoi vestiti dal finestrino e si allontanano lasciando lì la ragazza da sola nuda e a un passo dalla morte Alison è a terra ed è un miracolo che sia ancora viva inizia a riflettere su cosa fare si trova in una zona isolata lontana dalla strada principale e sa che il tempo non è dalla sua parte mentre cerca di valutare la situazione sente un rumore orribile come un gorgoglio rauco si chiede cosa possa essere da dove provenga poi si rende conto che proviene dalla sua gola realizza solo ora che le hanno reciso la trachea e che quel gorgoglio che sente è il suo respiro prova ad alzare una mano si tocca il collo e si accorge che è presente un buco enorme da cui esce qualcosa di umido sta perdendo una quantità spaventosa di sangue convinta che la sua fine si avvicina percepisce una sensazione strana come se stesse abbandonando le sue spoglie le pare quasi di fluttuare sopra il suo corpo inerme disteso a terra ma poi un pensiero si fa strada nella mente di Alison non voglio che questi due uomini la passino liscia per quello che mi hanno fatto e non voglio che abbiano la possibilità di farlo a qualcun'altra Alison è determinata ad aiutare la polizia a identificare i suoi aggressori così usa le poche forze che le rimangono per scrivere i loro nomi sulla sabbia Franz e Theons è convinta che sia l'ultima cosa che può fare prima di morire ma non è ancora abbastanza Alison vuole che sua madre sappia che l'ha pensata nei suoi ultimi istanti così con ogni briciolo di energia rimasta scrive anche ti voglio bene mamma dopo questo sforzo enorme Alison rimane distesa tra la sabbia aspettando la fine ma Alison non muore è ancora viva anche se non riesce a comprendere come sia possibile a questo punto un pensiero inizia a farsi strada nella sua mente forse posso sopravvivere e più si aggrappa questa idea più la sua determinazione cresce no non può permettere che questi uomini le portino via la vita vuole rivedere i suoi amici la sua famiglia Alison vuole sopravvivere raccoglie nuovamente tutte le forze che le sono rimaste per cercare di raggiungere la strada principale e non so come ci riesca ma riesce a mettersi a gattoni sostenendosi con le mani e con le ginocchia ma senti qualcosa di umido sulle gambe e con orrore si rende conto che sono le sue viti Alison però riesce a non farsi prendere dal panico si guarda intorno per capire come affrontare la situazione e nota i suoi vestiti ammucchiati per terra non troppo distanti Franz li ha lanciati fuori dalla macchina prima di ripartire riesce a prendere la camicia di jeans che aveva addosso quella sera e la avvolge attorno alle visce esposte cercando di tenerle all'interno del suo corpo ora io non ho idea di come riesca ad alzarsi in piedi credetemi va oltre la mia umana comprensione ma ce la fa appena si alza Alison vede tutto nero la confusione la sale perché non capisce perché la sua vista si è oscurata afferma che quella è la sensazione più surreale mai provata in vita sua allunga nuovamente la mano verso la sua ferita al collo ma non riesce a toccarlo le sembra che il collo stesso sia scomparso tasta ancora la zona per capire cosa stia succedendo finché si rende conto dell'orribile verità ovvero che la gola è tagliata così gravemente che la sua testa pende all'indietro in pratica è stata quasi decapita la sua testa quindi non può rimanere dritta da sola deve prenderla e posizionarla con la mano questa donna ha delle ferite terribili eppure si è appena alzata in piedi ha riposizionato la sua testa in modo da poter vedere e la sorregge con una mano mentre con l'altra regge la camicia che trattiene l'intestino dentro al corpo la forza che dimostra questa donna per me è davvero un mistero è incredibile contro ogni logica inizia a camminare anche se molto lentamente verso la strada principale che in realtà non è affatto vicina ma la fortuna gira a suo favore perché quella notte c'è la luna piena la cui luce intensa le consente di distinguere la strada da seguire ogni passo è una vera impresa Alison cade più volte ma si rialza sempre la vista è annebbiata eppure passo dopo passo e lentamente riesce ad arrivare fino alla strada principale questa camminata la prosciuga completamente infatti una volta arrivata sulla strada il suo corpo cede e crolla a terra poco dopo nota dei fari in lontananza un'automobile si sta avvicinando Alison inizialmente viene assolita dal panico perché teme che su quella macchina ci siano i suoi aggressori ma c'è anche una parte di lei che pensa questa è la mia opportunità forse qualcuno mi aiuterà i fari si avvicinano sempre di più l'autista rallenta guarda Alison e capisce in pochi secondi che quella donna ha bisogno di aiuto ma purtroppo dopo averla guardata per un istante se ne va lasciando la ragazza in mezzo alla strada Alison sta perdendo le speranze convinta di aver visto svanire la sua unica possibilità di salvezza tuttavia pochi minuti dopo altri fari appaiono in lontananza anche questa macchina rallenta a differenza della volta precedente però si ferma e la portiera dell'auto si apre un ragazzo di nome Tian Eilard scende dall'auto e si avvicina alla donna distesa sulla strada in macchina ci sono altri studenti di Johannesburg che stanno trascorrendo le vacanze estive a porta Elizabeth Alison è nuda sdraiata in mezzo alla strada immersa in una pozza di sangue Tian che è uno studente di veterinaria non perde tempo si precipita immediatamente da Alison per controllarle il polso scoprendo con sollievo che c'è ancora battito seppur molto debole le apre gli occhi e nota che sono molto arrossati ma incredibilmente Alison è ancora cosciente rendendosi conto della gravità delle sue ferite Tian si toglie immediatamente la maglietta e la strappa in vari pezzi che usa per tamponare le numerose ferite della donna cercando di fermare l'emorragia anche i suoi amici scendono dall'auto e gli si avvicinano per aiutarlo a fare pressione sulle ferite uno di loro ha un telefono cellulare così possono chiamare un'ambulanza e anche in questo caso Alison ha avuto tantissima fortuna perché vi ricordo che siamo negli anni 90 a quel tempo non erano molte le persone che ne possedevano uno Tian sa che deve tenere Alison sveglia a tutti i costi deve riuscire a farla rimanere cosciente ma capisce subito che la donna non può parlare trovano rapidamente un modo per comunicare Tian le fa delle domande e chiede ad Alison di stringergli la mano una volta per dire sì e due per dire no il ragazzo continua a parlarle le dice che ha gli occhi verdi più belli che abbia mai visto per questo motivo deve tenerli aperti e guardarlo non deve chiuderli neanche per un secondo i minuti passano ma l'ambulanza non arriva avrebbe dovuto metterci circa 15 minuti per arrivare ma ne passano 20 poi 40 e ancora nessun segno dei soccorsi Tian giustamente è assalito dall'ansia non sa più cosa fare e teme di non riuscire a mantenere Alison cosciente abbastanza lungo nel frattempo diverse macchine si sono fermate intorno a loro si forma una vera e propria folla ma il ragazzo non perde la concentrazione e mantiene la sua attenzione sull'obiettivo deve tenere sveglia Alison continua a fare le domande chiedendole in continuazione di stringergli la mano per rispondere il tempo continua a scorrere passa un'ora un'ora e mezza e l'ambulanza non è ancora arrivata il battito di Alison si fa sempre più debole ma Tian non smette di parlarle e continua a dirle hai gli occhi così belli non chiuderli voglio continuare a guardare i tuoi occhi sorprendentemente Alison trova addirittura la forza di accennare un sorriso finalmente dopo due ore arrivano i soccorsi Tian aiuta i paramedici a caricare Alison sull'ambulanza e le promette che non l'avrebbe mai e poi mai lasciata da sola infatti sale anche lui in ambulanza e Alison viene portata d'urgenza in ospedale oltre a essere in ritardo di due ore l'ambulanza guida anche molto lentamente durante il tragitto verso l'ospedale e io onestamente non ho idea né del motivo per cui si è arrivata in ritardo di due ore né del motivo per cui va lentamente durante il tragitto per arrivare in ospedale non sono riuscita a capire i motivi di questi ritardi di queste lentezze se voi sapete qualcosa non so fatemi sapere nei commenti i paramedici sono increduli non hanno mai visto delle ferite simili su nessuno Alison viene portata immediatamente in sala operatoria e anche i chirurghi che la operano sono assolutamente increduli e scioccati dalla gravità delle sue ferite non avevano mai operato una persona in condizioni così critiche uno dei chirurghi in seguito dirà di non aver mai dovuto curare nessuno che avesse sperimentato l'orrore subito da Alison anche oggi quando parla di questa storia si emoziona e piange Alison è sporca coperta di sabbia e di terra con gli occhi rossi è una ferita alla gola così profonda che i medici possono vedere la parte superiore della sua colonna vertebrale la tiroide recisa e le sue visce uscite dal vento sono piene di sporcizia ma non solo l'intestino è anche perforato in diversi punti i chirurghi sono convinti che non ci sia alcuna possibilità per lei di avere figli e sanno di dover riuscire a rimuovere ogni singolo granello di sabbia per evitare che muoia di sepsi devono anche affrettarsi a ricucirle la gola che altrimenti si gonfierebbe fino a farla soffocare nonostante la situazione disperata Alison ha davvero avuto un'incredibile fortuna quando i chirurghi la operano si rendono conto che nessuno degli organi interni è stato danneggiato e che incredibilmente le arterie carotidi sono illese vi ricordate di quando ho detto che Alison aveva svuotato l'intestino durante l'aggressione beh se non l'avesse fatto probabilmente sarebbe morta si scopre infatti che se il suo intestino fosse stato pieno sarebbe potuto esplodere fortunatamente quella notte c'è un chirurgo di guardia che ha studiato in India ed è specializzato nel trattare ferite alla gola anche molto gravi è proprio la persona più adatta per cularla ha le competenze necessarie per farlo l'operazione dura tutta la notte i chirurghi curano meticolosamente ogni singola ferita di Alison e incredibilmente lei riesce a sopravvivere dopo l'intervento viene ricoverata in terapia intensiva per essere monitorata attentamente e dopo solo qualche ora si sveglia Alison si sta riprendendo in ospedale e si può dire che stia bene considerando l'entità delle ferite che le hanno inferto i due assalitori Tian è ancora in ospedale accanto a lei e quando Alison lo vede per la prima volta dopo essersi risvegliata scoppia a piangere sopraffatta dall'emozione lo definirà il suo cavaliere dall'armatura scintillante l'esperienza che entrambi hanno vissuto quella notte li unirà per tutta la vita perché rimarranno amici creando un legame unico e forte a questo punto Alison dovrebbe parlare con la polizia ma c'è un problema non può ancora parlare perché ha un tubo inserito nel collo che fornisce ossigeno ai polmoni e non è possibile rimuoverlo in questo momento è necessario per il suo recupero tuttavia Alison è determinata a far arrestare i suoi aggressori e così scrive i loro nomi e un resoconto completo di quanto accaduto ma al procuratore capo purtroppo questo non basta gli agenti affermano che una testimonianza verbale di Alison sarebbe più affidabile Alison sa che rimuovere quel tubo in quel momento avrebbe comportato un rischio mortale per lei la donna però è fermamente intenzionata a fare in modo che i due aggressori vengano arrestati e la sua salute passa in secondo piano quando si rende conto che senza la sua testimonianza questi due uomini potrebbero fare a un'altra donna quello che hanno fatto a lei Alison non vuole che questo accada quindi chiede ai medici di rimuoverle il tubo dalla gola quando la polizia si presenta ad Alison lei guarda negli occhi gli agenti e dice i miei aggressori sono Franz e Theuns Alison conosce solamente i loro nomi non i cognomi ma questo è sufficiente per la polizia infatti i poliziotti sospettavano già di loro visto che erano in libertà su cauzione per un precedente caso di violenza intima la polizia riesce a rintracciare rapidamente Franz e Theuns li arresta e li conduce alla stazione di polizia per sottoporli a un interrogatorio i due uomini non hanno idea del motivo per cui sono stati arrestati perché sono convinti che Alison sia morta quando il detective li informa che verranno interrogati per tentato omicidio e violenza intima i due uomini si guardano increduli tentato omicidio il detective li guarda annuisce e dice sì Alison non è morta non l'avete uccisa è viva e ci ha raccontato tutto Franz e Theuns sono sbalorditi e rendendosi conto che a questo punto non ha alcun senso mentire confessano vengono accusati di violenza intima e tentato omicidio e fortunatamente questa volta restano in prigione in attesa del processo alla vigilia di capodanno del 1994 solo 13 giorni dopo l'aggressione Alison viene dimessa dall'ospedale ovviamente non si è ancora ripresa completamente ha un lungo percorso di guarigione davanti a sé le sono rimaste delle cicatrici a dir poco orribili non sono solo fisiche ma anche psicologiche ed emotive purtroppo torna a vivere con sua madre che si prende cura di lei con dedizione e anche grazie a lei che Alison riesce a riprendersi completamente sua madre tutti i giorni la lava le medica le ferite e le prepara i pasti e lo fa con gioia perché vedere sua figlia migliorare giorno dopo giorno è per lei una vera benedizione nel frattempo il caso viene riportato sui media in tutto il Sudafrica e molte persone vengono a conoscenza della storia di Alison il pubblico è inorridito nell'apprendere cosa ha dovuto sopportare e le offre moltissimo sostegno soprattutto perché la donna riesce a parlare di nuovo e decide di farlo in pubblico siamo nel 1994 i crimini violenti e intimi contro le donne non sono presi molto sul serio infatti durante le mie ricerche ho letto che all'epoca soprattutto in Sudafrica le donne che avevano subito violenza intima difficilmente ne parlavano apertamente ma Alison non si vergogna di quello che le è accaduto anzi è determinata a parlarne e vuole incoraggiare altre donne che hanno subito un trauma simile a uscire allo scoperto Alison vuole far sapere a tutte le donne che non sono sole e che hanno il diritto di farsi avanti prima del processo Alison deve identificare i suoi aggressori viene posizionata dietro a un vetro unidirezionale attraverso il quale deve riconoscere Franz e Theuns questo è il primo caso in Sudafrica in cui viene utilizzato il vetro unidirezionale per identificare gli autori di un reato in precedenza le vittime dovevano rimanere nella stessa stanza con gli aggressori e li identificavano toccandoli sulla spalla Alison identifica Franz Dutoit e Theuns Kruger ma ammette che anche se era dietro a quel vetro è stata una delle esperienze più terrificanti della sua vita perché le ha fatto rivivere il trauma dell'aggressione che aveva subito arriviamo al 12 giugno 1995 sono passati sei mesi dall'aggressione e dal tentato omicidio e il processo finalmente inizia Alison non è obbligata a presenziare alle udienze ma sceglie di presentarsi comunque ogni giorno in tribunale perché vuole guardare in faccia i suoi aggressori durante il processo Franz prende la parola non mostra alcuna emozione o rimorso e ripercorre l'aggressione la violenza intima con calma e disinvoltura onestamente a me spaventa parecchio immaginare come possa funzionare la sua mente perché dal suo atteggiamento si capisce che è ancora convinto che ciò che ha fatto non sia nulla di che e tra l'altro vi ricordo in caso ve lo foste dimenticato che quest'uomo Franz è sposato e ha pure un figlio sua moglie gli è rimasta sempre accanto e sinceramente non la giudico perché considerando il soggetto anche lei potrebbe essere una vittima di quest'uomo quando Franz è sul banco dei testimoni prova a dare la colpa ai demoni dentro di lui continua ad affermare di essere posseduto suggerendo che le sue azioni non dipendano da lui sembra davvero convinto che il giudice non lo condannerà perché è posseduto dai demoni Theons non testimonia durante il processo ma anche lui non mostra alcuna emozione o rimorso alla fine Franz e Theons vengono giudicati colpevoli di tutte le accuse Franz viene condannato a tre ergastoli mentre Theons riceve una sola condanna all'ergastolo il giudice data la natura violenta e sadica del crimine fa un'eccezione e scrive una nota su entrambi i fascicoli affermando che nessuno dei due dovrebbe essere rilasciato dalla prigione sono due soggetti troppo pericolosi e rappresentano una minaccia per la società quindi non viene concessa a loro la possibilità di richiedere la libertà condizionale con Theons e Franz finalmente dietro le sbarre ad Alison non resta che cercare di ricostruire la sua vita è però un percorso molto lungo e difficile Alison dopo il processo cade in una profonda depressione che le impedisce di tornare al lavoro niente nella sua vita è più come prima dell'aggressione ma una sera pochi mesi dopo il processo decide di andare a una festa di un amico per tentare di distrarsi lì incontra un uomo con cui si sente subito a suo agio tanto da iniziare a frequentarlo la coppia si innamora e due anni dopo decidono di sposarsi nonostante tutti i medici gli avessero detto che non avrebbe mai potuto avere figlia a causa delle lesioni subite Alison sorprende tutti rimanendo incinta pochi anni dopo essersi sposata riesce a portare a termine la gravidanza e dà alla luce un bambino sano nel frattempo Tian il ragazzo che aveva soccorso a Alison che se ricordate era uno studente di veterinaria cambia idea e decide di diventare un medico perché quello che è successo quella sera in cui ha salvato Alison ha cambiato completamente la sua vita e le sue aspirazioni dieci anni dopo quella notte straziante in cui Alison è stata aggredita la donna rimane incinta per la seconda volta anche questa gravidanza non presenta problemi e quando il suo secondo figlio nasce Tian è in sala parto con lei è uno dei medici che la assistono nella nascita del suo secondo figlio poco dopo Alison si separa da suo marito tuttavia i due rimangono in ottimi rapporti la donna dedica la sua esistenza ad essere la migliore mamma possibile per i suoi due figli e diventa anche un'oratrice motivazionale impiegando il suo tempo ad aiutare le vittime di crimini violenti e intimi Alison è riuscita a trasformare il suo trauma in una cosa positiva e ha viaggiato in oltre 30 paesi condividendo la sua storia e ispirando migliaia di persone dopo l'aggressione sia Franz che Theus non hanno mostrato alcun rimorso e nessuno dei due si è mai scusato con Alison inspiegabilmente a Franz viene permesso di avere un account Facebook e stando al suo account ha avviato diverse relazioni con donne all'esterno della prigione ma non solo nel 2006 Alison produce un documentario riguardo alla sua storia che potete trovare su Amazon quando la notizia viene resa pubblica Franz richiede di farne parte ma ha alcune richieste prima di tutto Alison deve scrivere e firmare una lettera di perdono poi vuole che gli ceda una parte dei proventi del documentario e infine Franz chiede anche una quota dei profitti delle vendite del suo libro e dei discorsi motivazionali correlati alla sua aggressione l'uomo dice esattamente queste schifosissime parole se non fosse stato per la mia aggressione Alison non avrebbe avuto la sua storia da vendere in primo luogo Alison ovviamente rifiuta in toto le richieste di quest'uomo orribile anche perché non vuole che faccia parte del suo documentario via sciò purtroppo però questo caso non finisce qui perché nel luglio del 2023 Franz e Theuns vengono entrambi rilasciati dal carcere a meno di 30 anni dalla loro condanna questo perché c'è stato un cambiamento nella legge sudafricana che ora concede a ogni prigioniero condannato all'ergastolo la possibilità di ottenere la libertà condizionale quando apprende questa notizia Alison è devastata e terrorizzata l'idea che i suoi aggressori siano stati rilasciati mi dispiace molto per Alison perché non merita di avere paura né di doversi preoccupare a causa di Franz e Theuns anche se ovviamente il suo timore è più che condivisibile quello che ha subito va al di là della mia comprensione questo caso è davvero assurdo e durante le ricerche ho dovuto più volte ricordare a me stessa che si tratta di una storia vera la forza e la tenacia dimostrate da Alison sono straordinarie sono felice di poter portare sul canale storie di sopravvivenza come questa è una gioia per me raccontarvi questi casi perché sia Alison che la sua incredibile storia non devono essere dimenticate è sorprendente come una serie di coincidenze fortunate l'abbiano aiutata in diversi momenti cruciali e credo che abbiamo bisogno di ascoltare storie di questo tipo storie di speranza e resilienza Alison è una vera combattente ancora oggi cresce i suoi amati figli e continua a motivare e ispirare innumerevoli persone in tutto il mondo molto bene io ho finito di parlare di questo caso e ovviamente ora sono curiosa di sapere che cosa ne pensate voi quindi fatemi sapere se conoscevate questo caso ma credo di sì perché è abbastanza famoso ma ho voluto trattarlo anch'io perché queste storie sono quelle che amo di più raccontare ovviamente le storie in cui le persone si salvano in cui c'è speranza in cui si conclude bene il tutto quindi sono molto curiosa di sapere cosa ne pensate voi di questo caso che cosa avete provato quando mentre glielo stavo raccontando quali sono state le vostre sensazioni e infine quali sono le vostre opinioni sono molto curiosa di conoscerle quindi vi invito assolutamente a commentare questo video e a scrivermi tutti i commenti che volete io nel frattempo vi mando un bacione noi ci vediamo prestissimo al prossimo video mi raccomando fate i bravi continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici basta che non facciate nulla di criminale ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti.